Ciao ragazzi e benvenuti in questo nuovo appuntamento di TechDeals 5 smartphone in offerta anche questa settimana e sono tutti molto interessanti Andiamo a scoprirli insieme Allora ragazzi ben ritrovati partiamo subito con la prima offerta che riguarda l'HTC One M8s Smartphone da 16GB in versione grigia Ora disponibile ad un prezzo che passa dai 529,90€ di listino C'è uno sconto del 38% che fa risparmiare 200€ Il prezzo finale al momento è di 330€ A livello di caratteristiche tecniche questa è una versione migliorata dell'HTC One M8 Quindi è comunque un passo avanti Display da 5 pollici, full HD, fotocamera principale da 13MP Fotocamera anteriore da 5MP, flash integrato Insomma non manca nulla su questo HTC One M8s A livello grafico troviamo la personalizzazione Sense 7 di Android E quindi insomma il prezzo è comunque relativamente contenuto per un dispositivo ancora oggi Credo abbastanza performante, abbastanza moderno Quindi se siete interessati come per tutte le altre offerte che vedremo in questo Tech Deals I link, i prodotti sono in descrizione Passiamo ad un altro dispositivo molto interessante e sempre di HTC Parliamo dell'HTC One A9 Aero Opal Smartphone Disponibile nella versione argento da 16GB Il prezzo passa da una cifra di partenza che era decisamente troppo alta di 649,90€ Ora c'è uno sconto del 45% che porta questo smartphone a soli 357,99€ con spedizione gratuita Il design della serie A9 è molto carino, ricorda in particolare appunto l'estetica degli iPhone È stato sempre molto ispirato questo A9 proprio all'iPhone 6 e all'iPhone 6S Per quanto riguarda le caratteristiche tecniche troviamo un display da 5 pollici a 1080p Con anche una funzionalità di efficienza energetica che quindi fa risparmiare batteria Possiamo anche scattare foto con la fotocamera posteriore con stabilizzatore ottico da 13 megapixel Abbiamo un audio Dolby Digital molto performante, flash integrato e possibilità anche di fare videochiamate Abbiamo chiaramente la Sense a bordo e insomma il pacchetto è piuttosto completo HTC One A9 quindi ora a 357,99€ Sconto anche sul Motorola Moto X Play Smartphone con display da 5.5 pollici Fotocamera posteriore da ben 21 megapixel 16GB di memoria integrata RAM da 2GB E viene fornito ora con Android 5.1.1 Lollipop In particolare lo sconto riguarda la versione bianca C'è anche una versione nera Che passa ora da 399,90€ di listino Con spedizione gratuita Vi potete portare lo smartphone a casa Con soli 263,38€ Risparmiando il 34% rispetto alle cifre di listino Per quanto riguarda le altre caratteristiche tecniche troviamo un processore da 1,7GHz Qualcomm Snapdragon 615 È un octa-core GPU Adreno 405 Sistema operativo Android 5.1.1 Abbiamo già detto dello schermo da 5 pollici e mezzo 1080p Full HD RAM da 2GB Abbiamo già detto Insomma abbiamo tutta la connettività Chiaramente che ci si potrebbe attendere Quindi Bluetooth 4.0 Anche NFC Anche GPS Ma è un singola SIM In ogni caso Anche in questo caso Link in descrizione Offerta interessante anche sull'LG Magna Non saprei come leggerlo Smartphone con 8GB di memoria Abbiamo un display IPS da 5 pollici HD con tecnologia Touch in Cell Design leggermente curvo per renderlo più ergonomico Processore quad-core a 1,3GHz Batteria da 2540 mAh Insomma l'interfaccia chiaramente di LG molto carina L'offerta riguarda la versione nera Lo smartphone è anche disponibile in un'altra versione Che dovrebbe essere quella in bianco Esattamente così Il prezzo passa da 179,90€ A soli 119,99€ Con spedizione gratuita E con un risparmio quindi del 33% E siamo arrivati all'ultima offerta di questa settimana Che è veramente di quelle imperdibili Perché con un prezzo di listino iniziale Che partiva da 406,50€ Almeno su Amazon Adesso l'LG Nexus 5X Nella versione nera da 16GB Può essere acquistato a soli 289€ Risparmiando il 30% sul vostro acquisto E chiaramente il Nexus 5X È uno dei prodotti ancora che mi sento di consigliare di più Perché viene venduto appunto a prezzi molto interessanti E ha un hardware di tutto rispetto E un software sempre aggiornato È già disponibile infatti Android N in beta Viene venduto al momento con sistema operativo Android 6.0 Display Full HD IPS da 5.2 pollici Quindi non troppo grande E potrebbe essere un Pro Fotocamera da 12,3 megapixel Con autofocus laser Sensore delle impronte digitali integrato E connettività USB Type-C Veramente un telefono al top Ad un prezzo Veramente veramente molto interessante Se volete provare Android Forse nella sua migliore espressione Bene ragazzi Quindi noi ci risentiamo Settimana prossima Con altre offerte su altri smartphone Android Ma già domani con Q&A Tech Day Mi raccomando guardate il video Fatemi le domande Così posso rispondervi domenica prossima 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 E noi ci risentiamo al prossimo video Sempre qui su Tech Ciao a tutti Da Andrea Cervone Per Tech E noi ci rispondervi domenica prossima 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 E noi ci rispondervi domenica prossima